Il reso conto CSI della settimana non può che partire dal torneo Open Femminile del Comitato Novarese e dalla partita giocata alla palestra Rebora di Stresa venerdì tra CSI Baveno e Auxilium Villa. Ha vinto la compagine di coach Stefano Cazzini in questa stagione, davvero un team forte con nomi importanti, citiamo Titti Curatolo, Barbara Brambilla, Silvia Tonietti, Eleonora Guelpa, Jacqueline De Luca e Elisa Gualdi senza volerne dimenticare altri. Partita bella ma con un risultato netto per Baveno che ha chiuso 25-15, 25-23, 25-23. Sconfitta invece per 3-0 la compagine femminile del 2008 Domodossola a Lumellogno. Perde anche la maschile Open contro Gattinara ma resta in vetta la classifica. Venendo a tornei giovanili del Comitato Viciovri, l'antemente diretto da Enrico Dago, in under 13 continua la corsa di Vogogna che battendo Villa 3-0 resta primo a 11 punti, 4 in più dei 7 di Omegna. In under 14 nello scontro diretto Sprint Gravellona ha battuto 3-1 Vega Occhiali Rosalziora e ora guida con 11 punti, 2 in più delle Verbanesi. Nel campionato allieve al comando c'è sempre Premosello a 14 punti, tallonata a 13 da area libera e da Vogognese a 12, entrambe ereduti da un successo. Classifica molto corta nel campionato Top Junior. Dopo il successo contro Omegna per 3-0 c'è in testa Sprint Gravellona con 12 punti. Il 2008 Domodossola dopo aver vinto su Vega Occhiali Rosalziora-Verbania è a 11 punti. Terza Vega Occhiali Rosalziora-Piedimulera che è a 10 punti. Attenzione però, la compagine di Silvia Sirocchi e Roberta Labella ha già osservato il turno di riposo. Infine il torneo Open Misto che rischia di diventare il classico monologo degli ossolani del volley ma non posso che hanno vinto 3-0 contro Premosello e guidano ora 9 punti con le inseguitrici a 3. Sabato pronti via per il circuito provinciale mini volley con il classico start al Palasport di Ornavasso. Anche in quest'annata ben 12 le uscite, attesi grandi numeri.